Presidente Silvio Brocco, dispiace questa sconfitta per 2-0, molto probabilmente perché la squadra è venuta fuori troppo tardi. Sì, è venuta fuori dopo i due errori iniziali. È da rimproverare sicuramente la squadra per quelle disattenzioni dell'inizio. È come se fossimo scesi in campo già perdenti 2-0. Non ho altre cose da dire. Che cosa può essere scattato nella mente dei giocatori in quei 13 minuti blackout? Ma niente, evidentemente forse, non lo so, convinti o un eccesso di sicurezza nell'approccio in quelle palle iniziali perché dopo hanno dimostrato di essere una buona squadra, anzi una squadra di valore sicuramente perché giochiamo, giochiamo molto bene. Ne è mancato forse in fase conclusiva qualcosa, però sicuramente non siamo una squadra che può permettersi di prendere due golli in quella maniera lì. Una squadra che crea però che ha ancora tante difficoltà ad andare in gol? Beh, questa è una questione che adesso il tecnico, il mister, dovrà vedere. Sicuramente il centrocampo, con Amadio, con altri giocatori, impostiamo quasi sempre noi il gioco. L'abbiamo visto a Forlì, l'abbiamo visto in casa della San Giustese. Ogni partita diciamo che vinciamo ai punti, non sul campo. Diamo chiaramente l'impressione di essere una squadra ben organizzata, però ecco quello che dispiace è cedere poi la posta in palio. Grazie.